L'informazione vuol dire dare forma alle idee e dobbiamo avere delle idee potenzianti per questi ragazzi, dobbiamo far credere loro che il futuro sia una possibilità e non una minaccia. E allora questo progetto mira veramente a far ritrovare la fiducia nei ragazzi, ecco perché è importante. Ho restato in Calabria cercando di portare un aiuto a chi verrà dopo di noi.